La Global Game Jam è un evento di sviluppo in cui una serie di tecnici e artisti che lavorano nell'industria di videogiochi o vorrebbero lavorarci, si riuniscono in un luogo tutti insieme e improvvisano in 48 ore un gioco da chiudere e poi presentare a tutto il resto dei partecipanti. È un evento di sviluppo che si tiene in contemporanea in tutto il mondo. Da molti anni Hive è partner della Global Game Jam e organizza un suo sito in cui ospita come partecipanti degli studenti di Hive gli ex studenti e poi tutti i giovani che hanno voglia di buttarsi in un'esperienza di sviluppo. La prima volta quest'anno abbiamo fatto una jam completamente online e oggi, giorno della chiusura, possiamo affermare che è stato un enorme successo con record di partecipazione da parte dei jammers e di giochi consegnati. Il tema di quest'anno è duality, in cui appunto ci si può sbizzarrire nel creare un gioco che appunto abbia due anime, due facce, due gameplay, qualcosa di diametralmente opposto. Insomma, le opzioni sono varie. La Global Game Jam per noi di Hive è una sorta di festa comandata a cui assolutamente non possiamo mancare. Noi cominciamo a parlarne già da dicembre e quando arriva il giorno di gemmare siamo già belli carichi a dare il massimo per tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Sicuramente per noi organizzatori il momento più bello è quello in cui vengono presentati i giochi in cui possiamo mettere mano alla fatica che hanno fatto i jammer e goderci in genere i loro giochi sempre sopra le righe e molto poco politica di corretto. Sono usciti fuori tantissimi problemi, tantissimi bug e il tempo era pressoché nullo. E' stata una vera e propria corsa contro il tempo per risolvere il risolvibile. Sono stati quando abbiamo riunito il lavoro di tutti all'interno del progetto e abbiamo visto il gioco prendere forma. Conoscere le persone che hanno partecipato alla gemme ovvero conoscere altre persone che hanno la tua stessa passione e di talento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.